Riccardo Sbertoli, capitano dell'Itas Trentino a Firenze per la Del Monte Supercoppa, inizia la stagione con quali aspettative? Più che aspettative direi obiettivi, sicuramente abbiamo l'obiettivo di fare bene qui in Supercoppa. È il primo torneo trofeo ufficiale, quindi ci teniamo a arrivare in fondo. Il nostro obiettivo è arrivare sempre a giocarci le partite che contano, le finali, quindi siamo concentrati per questo. Fascia da capitano, una responsabilità dopo la buona stagione dello scorso anno. Cosa hai trovato in questa nuova Itas Trentino? Sì, sicuramente una bella responsabilità, sono felice di farmene carico. Ho trovato il gruppo che avevo lasciato con dei nuovi innesti, sicuramente di livello. Penso che la squadra stia lavorando bene, ovviamente non possiamo ancora essere al top del nostro potenziale, però giorno per giorno cerchiamo di aggiungere sempre qualcosina. Parliamo di questa Del Monte Supercoppa, domani semifinale con Monza, cosa ti aspetti? Mi aspetto una partita dura, non so bene cosa aspettarmi, vedremo domani, la vivremo la partita sicuramente. Sicuramente una squadra che ha voglia, almeno quanto noi, di andare in finale, quindi sarà una partita dura perché è una semifinale. Sarà magari una partita in cui in certi momenti non potremmo essere bellissimi, ma dovremmo essere concreti e questo è quello che ci siamo detti e quello che vogliamo fare.